Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo 9 di Luca al versetto 7, pochissimi versetti. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dei morti, altri è apparso Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti, ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Un passaggio appunto breve che ci dice la continuità, direi con tutto l'Antico Testamento, cioè le voci profetiche non si spengono mai, le possiamo anche uccidere, ma non si spengono mai, ritornano. Giovanni l'ho fatto decapitare io, dice Erode, e chi è costui di cui sento parlare che fa queste cose magnifiche e che arringa le folle e che ha un seguito incredibile. Questo ci dice qualcosa di storico, di quello che pensa Erode, di quello che è accaduto, ma ci dice anche qualcosa della nostra coscienza, che talvolta noi possiamo mettere a tacere la voce di Dio che è in noi, ma lei ritorna. E allora c'è da chiedersi, c'è una presenza di Dio? Sentiamo una nostalgia di Dio che talvolta è sotto la cenere, che talvolta abbiamo un po' nascosto, ci sono delle scelte che noi, potremmo dire, abbiamo messo un po' da parte, ma che forse dentro di noi ogni tanto inaspettatamente ritornano e non è l'ora di ascoltare quella voce, cioè quella voce di Dio che illumina la nostra coscienza, quella voce di Dio che alla luce dell'ascolto della parola ogni tanto ci interroga, non possiamo seppellire questa parola, vabbè, a meno che non siamo proprio, non ci interessi nulla o non siamo proprio superficiali, questa parola ritorna e dentro di noi ogni tanto abbiamo voglia non soltanto di ascoltarla la parola, ma abbiamo voglia di convertirci, non so se capiti anche a voi, a me capita di dire cavolo, ma in ora è la volta buona che io devo mettermi lì a vivere il Vangelo, perché certe pagine ti entusiasmano e tu dici mamma mia, quanti passi indietro ho fatto, no? Ecco, ascoltiamo questa voce che ogni tanto pungola, ogni tanto arriva, ogni tanto ci rimette la voglia di vivere da cristiani e di vivere da cristiani felici e di vivere da cristiani con delle scelte che siano radicali, non perché facciamo chissà che, ma che siano conformi a quello che è la parola del Vangelo, ma che è anche quello che in realtà ci suggerisce la nostra coscienza, perché? Perché in realtà il Vangelo non dice altro se non inverare quello a cui siamo chiamati, cioè amare, amare, amare e amare fino alla fine. Ma Erode, come alcune volte accade nel Vangelo, come potremmo dire anche di Pilato, dice poi una cosa vera, autentica, bella, cerchiamo di viverla noi e cercava di vederlo e noi cerchiamo di incontrarlo, vederlo con gli occhi non c'è più possibile, ma incontrarlo così. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, un grazie a Paola di Reggio Emilia che mi ha telefonato, è sempre bello parlare con delle persone che mi conoscono, perché condividiamo il Vangelo attraverso questo video, ma io non conosco loro, no? È la bellezza del Vangelo che tutti ci unisce. E colgo l'occasione anche per ringraziare tutti voi, tutti voi che commentate, che scrivete, che non sempre ahimè riesco a rispondere magari anche a delle questioni importanti, ecco, ma sul sito della mia parrocchia, www.coreimmacolatocuno.it trovate anche il mio telefono e rispondo sempre al telefono. E poi ieri sera ci siamo visti con la segreteria del Consiglio Pastorale, perché inizia un nuovo anno. È stato bello, insomma, all'inizio di un nuovo anno c'è voglia di ricominciare, no? È bella sta cosa qua e poi, insomma, di non sapere dove bene, dove lo spirito ci condurrà, ma noi proviamo a seguirlo. Ale, buona giornata a tutti voi!